A San Pellegrino per ottenere la guarigione dal tumore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pellegrino, veniamo a te con fiducia, perché tu interceda per fare il nome della persona malata. Il nostro fratello o sorella, egli è gravemente inferma. Tu che sostasti orante presso la croce ed ora vivi nella luce perenne del cielo, intercedi presso il Signore risorto, perché stenda su fare il nome della persona malata, la sua mano potente, e la guarisca dalla malattia che la affligge. Tu, servo fedele della Vergine Santa, intercedi presso il Signore della gloria, perché liberando fare il nome della persona malata dalla sofferenza che la tormenta, mostri la potenza del suo amore salvifico. Tu, frate insonne nella supplica, intercedi presso il Signore della vita, perché dileguate le tenebre della malattia. Fare il nome della persona malata, gioisca nella luce della recuperata salute, e corra a rendere grazie a Gesù Salvatore. Ascolta, San Pellegrino, la nostra preghiera. Intercedi per il nostro amico infermo, per la nostra amica inferma, come il centurione per il suo servo, come Marta e Maria per il fratello Lazzaro. Come la Vergine per gli sposi di Cana, perché anche, dire il nome della persona malata, sperimenti l'efficacia della tua protezione sui poveri e gli ammalati. A Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, la cui santità rifulge in te, Pellegrino, ogni onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pellegrino viene invocato per ottenere la guarigione dai tumori. Tantissimi sono i fedeli che si rivolgono a lui, ottenendo la grazia della definitiva guarigione e che si rivolgono a lui,